Iscriviti al canale e attiva la campanella, per restare sempre aggiornato. Alberto non ha reagito bene vedendo Edoardo nel letto con Antonella, nella stessa stanza in cui dorme anche lui. Quando Donna Maria ha risposto seccato dicendo che se ha voglia di dormire lì, dorme lì, Alberto ha cominciato a lanciare accuse, hai 12 anni e non hai avuto un problema nella vita se ti comporti così. Dopo il battibecco, Antonella e Edoardo sono usciti dalla stanza per parlare di quanto appena successo. La fiordelisi ha bacchettato Edoardo, re o secondo lei di aver dato troppa confidenza ad Alberto e di ferirlo, così facendo. Queste le sue parole. Guarda che gliel'hai data tu questa confidenza per farlo reagire così. Si vede palesemente che è geloso di te. Arrivaci, non sei stupido. Visto che hai un bellissimo rapporto con lui di amicizia, anche se lui ha pensato altro, ti dico evita certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia, come se voi aveste fatto qualcosa o come se tu gli avessi fatto pensare chissà cosa. Fatti un esame di coscienza. Edoardo sente di non avere colpe. Ha fatto notare inoltre che nonostante abbia amicizie con altri ragazzi gay, questa è la prima volta in cui qualcuno fraintende il suo comportamento. Perdonami, visto che uno su cento che ne ho conosciuti lo ha pensato, significa che ha visto male lui, no? Queste sono state le sue parole. Antonella però ha insistito, anche in protezione verso Alberto, non si deve dare troppa confidenza a una persona a cui piaci perché la fai stare male. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.